Perché abbiamo prodotto Oral-Serve? Abbiamo prodotto in seguito a una richiesta di un amico collega che frequentando un centro di recupero per tossi o dipendenti aveva notato come l'utilizzo dei normali colluttori o dei prodotti che usavano non avessero una grande efficacia nei confronti soprattutto delle infezioni virali, da herpes simples ad esempio. Per cui ci aveva richiesto un prodotto che potesse agire in maniera più efficace e la nostra attenzione, grazie anche al suo aiuto, si è concentrata su un prodotto lungaria tormentosa. Grazie!